Un atto di arroganza e scorrettezza senza precedenti per dirla con le parole dei sindacati è la pagina peggiore delle relazioni sindacali con il comune di Sulmona. Ci vanno giù duro CGL e Cisle Will che preparano la protesta dopo la decisione della giunta comunale di approvare una delibera unilaterale per i mini dirigenti senza l'accordo con le sigle sindacali. Martedì si tenterà la conciliazione nell'incontro convocato in prefettura anche se i sindacati stanno già pensando di ricorrere al giudice del lavoro, di uno sciopero qualora i summit davanti al prefetto si chiuda con un verbale di mancato accordo. Sì, martedì siamo stati convocati dal prefetto al quale abbiamo chiesto di attivare le procedure di conciliazione con il comune proprio perché l'intenzione di organizzazioni sindacali è stata quella di cercare fino all'ultimo secondo di divenire ad una contrattazione ad un accordo. Volontà che è stata completamente disattesa dall'amministrazione che ha proceduto con quest'atto unilaterale per cui noi martedì andremo lì chiedendo all'amministrazione di devocare l'atto unilaterale per poter appunto arrivare ad un accordo che concili le esigenze dell'amministrazione ma chiaramente che non vada a danneggiare e a penalizzare i lavoratori. La vicenda va avanti dall'inizio del 2019, è chiuso l'accordo normativo triennale, dal 18 settembre è partita la discussione sugli aspetti economici con la proposta dell'amministrazione di trasferire 64.300 euro dal fondo della produttività alle posizioni organizzative PEO, una proposta secondo i sindacati inaccettabile. La proposta dei sindacati era quella di trasferire 30.000 euro, fermo restando che il fondo di produttività riguarda tutti i lavoratori e non solo i 10 che beneficiranno delle posizioni organizzative. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di chiudere questa brutta parentesi, la più brutta che i sindacati hanno vissuto nel comune di Sulmona e sia chiaro che noi non lavoriamo per fare qualche tessere in più, noi ci occupiamo di contrattazione collettiva, tonano i sindacalisti Nicolaceri, Anthony Pasqualone e Michele Tocces. Non siamo contrari alle posizioni organizzative, sia chiaro questa cosa, come si chiede ai sindacali noi siamo perché le posizioni è un elemento di valorizzazione di tutto il personale della macchina amministrativa. Noi non ci piace, non ci è piaciuto l'atteggiamento dell'amministrazione, non ci è piaciuto perché? Perché con un atto di imperio chiede di trasferire una parte consistente dal fondo della produttività collettiva al fondo per le Pio, dichiarando che ha esigenze di istituire 10 posizioni organizzative sulle quali noi non possiamo depaperare il fondo, anche perché c'è stato un accordo fatto nel mese di settembre con l'amministrazione per quanto riguarda le progressioni orizzontali di tutti i dipendenti. Quell'accordo è un accordo che noi vogliamo esigere, pertanto noi, per entomeno le somme che l'amministrazione chiede indietro, chiede al fondo della produttività, non abbiamo la certezza di tra virgolette di dare la possibilità a un buon numero di dipendenti del comune di fare nel bienio una progressione economica. Ora i braccio di ferro e i sindacati vogliono andare fino in fondo o in prefettura si trova un accordo o si passa allo sciopero.